E se rilanciassimo? Invadiamo i supermercati, compriamo le posizioni di rendita sugli scaffali, lanciamo pubblicità a tappeto. Dottore, per rilanciare occorrerebbe un grosso investimento e in questo momento i capitali non ci sono. Ma come non ci sono? Ma nel bilancio risultano? Magnaghi, non stiamo più parlando di prodotto, grazie. Vada a prendersi un caffè. Grazie.